buon pomeriggio a tutti cari amici oggi parleremo della pasqua e del suo significato profondo lo faremo con un counselor olistico e naturopata germano rossi ciao germano a tutti grazie grazie per essere qui con noi e con una terapista e fondatrice dell'associazione piano di barbara sessi ciao barbara ciao 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 germano venuti per essere qui con noi grazie a te grazie a te questo è un momento importante dell'anno perché tra pochissimi giorni sarà pasqua e non si festeggia appunto solo con il simbolo dell'ovetto della colomba eccetera ma è la pasqua ha un significato profondo quindi vi ho invitato qui per insomma parlare del significato profondo della pace quindi inizio da te germano ecco spiegaci un po i vari significati o il significato veramente importante della della pasqua beh i significati come al solito sono sono tanti tanti quanti sono i simboli che dentro alle cose esistono e tanti quanti sono le persone che riescono a interpretarli la pasqua ha un significato ebraico che è legato alla la parola stessa vuol dire passaggio ed è legato a quel momento della storia del popolo di israele in cui i ebrei si affrancano dalla schiavitù in egitto e con mosè che intercede per loro con questo dio yahweh riesce a convincere attraverso delle strategie molto trucci diremmo noi gli egiziani a lasciarli andare e nello specifico l'ultima delle piaghe che yahweh lancia sull'egitto per convincere il faraone a lasciare andare gli ebrei e quella più 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 atroce no più più terribile che è legata al punto al fatto che tutti i primigeniti maschi della 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 dell'egitto moriranno in una notte se appunto il faraone non lascia andare gli ebrei il faraone non lascia andare gli ebrei e questo avviene per evitare che nelle famiglie ebraiche succeda la stessa cosa il yahweh chiede a mosè di segnare le porte col sangue di un agnello e da qui nasce tutto quel bar a quella quella tragedia di sacrifici che poi ci siamo portati dietro per millenni finché non è arrivato cristo che con il suo sacrificio il suo dono di sé interrompe questa questa atroce tradizione e proponendosi lui come agnello di dio venuto per togliere i peccati dal mondo così così viene annunciato il percorso di cristo ecco che attraverso questa sua grandissima donazione di sé blocca o almeno avrebbe voluto bloccare quelli che sono i sacrifici degli innocenti inutili questo messaggio ci viene raccontato oggi anche attraverso recentemente nel 2007 il papa benedetto sedicesimo ha fatto un'omelia legata proprio a questo in realtà gli studi che sono si sono susseguiti su su questa su questa storia di gesù che si è immolato anche per far smettere i sacrifici animali e è una è una ricerca chiaramente che arriva molto da lontano però è sempre stata tacitata dalle dalle alte sfere del vaticano e stranamente dico con grande sollievo benedetto sedicesimo invece nel 2007 attesta chiaramente che gli studi che prevedevano che nel vangelo di giovanni viene detto che gesù non viene non viene non fa la pasqua nel nel giorno della pasqua ebraica ma lo fa il giorno prima e alcuni giorni prima e secondo quella che era la tradizione di degli esseni di curran e quindi questa cosa rispetto agli altri tre vangeli sinottici non risultava chiara e però risultava chiaro che gesù fosse andato a fare la cena di pasqua in un quartiere che era il quartiere degli esseni il quartiere di gerusalemme dove questa questa setta questa questa fazione mistica dell'ebraismo contraria al pensiero tradizionale contraria all'idea del tempio del tempio di salomone e che prevedeva una 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 pasqua vegetariana perché gli esseni erano vegetariani e quindi non cruel tenta il fatto che gesù fosse andato con gli apostoli proprio in questo quartiere che era un quartiere di periferia perché gli esseni non erano ben integrati nella 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 città di gerusalemme ovviamente essendo così rivoluzionari rispetto alla tradizione e attesta che molto probabilmente questa questa scelta non fosse casuale e è ovvio che seguendo anche intuitivamente il percorso e il messaggio di cristo questo dovrebbe risultare assolutamente coerente e chiaro però purtroppo nei secoli questo messaggio è stato mascherato e utilizzato da strutture di potere perché la il cristianesimo è passato dall'essere una una religione una pratica spirituale di minoranza e molto vessata dal potere di allora che era il potere dell'impero romano soprattutto e a diventare poi nel giro di tre secoli e mezzo quattro secoli la religione di stato dell'impero romano ma questo non è avvenuto senza filtri moltissime cose di quello che era il messaggio iniziale che era un messaggio complesso c'erano un'infinità di vangeli si pensa addirittura 100 vangeli legati al messaggio di cristo e questi vangeli a poco a poco vengono filtrati e ridotti appunto i quattro vangeli canonici che noi conosciamo e questo è avvenuto attraverso grandi lotte intestine grandi prevaricazioni e grandi manipolazioni si racconta che in molti dei degli 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 incontri che i vescovi facevano in giro per per l'europa di allora in giro per il mediterraneo c'era sempre la supervisione più o meno occulta dei del potentato romano che decideva cosa o far passare e cosa invece tralasciare di quello che era il messaggio cristico ok hai fatto proprio un escurso storico ben approfondito così almeno per chi non conosce questo non ha approfondito abbiamo fatto proprio la cronistoria ecco è un accenno di cose ce ne sarebbero davvero serve quindi invece a te barbara chiedo oggi qual è il significato profondo anche a livello proprio laico a livello universale anche per chi non non conosce appunto la storia oppure non è legato a nessuna religione proprio il significato oggi della della pasqua allora innanzitutto sono totalmente in linea e in accordo con germano perché in realtà io e lui sono direi circa quattro cinque anni che facciamo i seminari sull'anima degli animali quindi abbiamo cercato insieme di proporre un cammino sia dal punto di vista spirituale ma anche un cammino animalista di tipo animalista consapevole quindi sì quello che ha detto germano assolutamente vero storicamente vero ma giustamente invitiamo le persone a sentire attraverso il proprio cuore così come ha fatto il maestro maestro gesù scusate se ritorno su questo simbolo che per noi poi si è parlato degli esseni noi portiamo avanti gli insegnamenti anche esseni ciò che il maestro ha voluto contrastare appunto rispetto al sacrificio di tante anime innocenti andando anche appunto nel tempio no proprio a cacciare e a come si dice denunciare queste questo massacro ponendosi anteponendosi dall'altra parte in un altro luogo fuori dal tempio sulla croce quindi prende su di sé tutti questi peccati infatti si dice nel quinto comandamento non uccidere non si dice non uccidere l'essere umano si dice non uccidere e questo è universale per tutti gli esseri viventi quindi ma dicendo che tutti gli esseri viventi insomma sono qui su questa terra e quindi le alle anime sono sono tutte insieme per vivere purtroppo l'essere umano vuole anteporsi alle leggi universali e quindi decidere anche per la vita altrui quando parlando terra terra quando si dice sì però io voglio essere libero di scegliere di mangiare la carne va bene ma l'animale non è libero di scegliere cioè tu stai scegliendo anche per quell'animale e mai già morto me lo portano così sul piatto è un discorso lungo perché purtroppo viviamo in una cultura dove bisognerebbe fare una rivoluzione culturale e proprio quella da rivedere perché poi la rivoluzione si ritrova anche dentro anche inconsapevole poi piano piano con un percorso di consapevolezza può arrivare anche a questo dunque però è proprio più che sulle persone direi che proprio almeno è esatto una cultura però arrivando proprio al significato profondo adesso della pasqua ecco parlando di pasqua che significato ha cioè cosa vogliamo essendo unicare alle persone oggi visto che siamo anche in un periodo particolare dove esattamente proprio in questo periodo dove vi è un grandissimo sacrificio a livello mondiale di tantissime anime innocenti quindi di contraccolpo abbiamo l'ultima volta ci siamo visti con il nostro grande fratello andrea cisternino proprio il giorno che era stato attaccato e quel che è stato attaccato ma rifugio cioè non è che è stato attaccato lui però è iniziata questa guerra ufficialmente proprio quel giorno in questi di questi tempi dovremmo iniziare ad ascoltare attraverso il cuore quando tu parli di rivoluzione la rivoluzione proprio quella interiore di ritornare a sentire non con la mente ma con il cuore quindi se in questo momento tante persone si stanno sacrificando vi è un olocausto animale continuo da anni c'è un malcontento ci sono foreste che vengono depredato ci sono tantissime siccità carestia tantissimo sofferenza dovremmo iniziare veramente a morire insieme al cristo e rinascere insieme a lui al suo cuore al cuore sacro anche attraverso una scelta etica ma non è che e qua voglio riportare una una frase di andrea perché se lo merita non è che se noi siamo vegani o vegetariani lo facciamo per noi stesso facciamo anche per i figli dei di quelli che scelgono di mangiare carne perché comunque l'inquinamento di tutti la sofferenza di tutti ma soprattutto la sofferenza genera sofferenza quindi l'animale soffre gli animali soffrono in massa creano questa grandissima egregora e la terra non può più contenere di contraccolpo questo karma così negativo quindi rimanderà una risposta su quella vibrazione quindi normale risemplifichiamo il concetto perché magari c'è anche chi non mastica questo tipo di argomenti quindi stai parlando sostanzialmente dell'anima del mondo che tutte le anime formano un'anima nel del mondo quindi l'anima dell'albero piuttosto che un'altra anima quindi per star bene tutti dovremmo rispettarci e rendere ogni cosa sacra ritrovare il sacro delle cose ecco se vogliamo chiudere e semplificare per chi non non ha in mano questi concetti perché quello che ha detto è molto bello molto profondo e ha bisogno di essere metabolizzato sempre per chi si affaccia per le prime volte in queste cose ritorno a germano perché devo stare nei tempi figlioli però il concetto barbara è entrato quindi il centro di noi stessi il cuore quello che ho capito che assolutamente grazie a te germano ti chiedo questo allora visto che tu hai avuto varie esperienze di vita viaggiato tanto io qui ho preso appunti so che hai viaggiato per l'europa l'africa l'america l'india l'indio cina ecco cosa consiglieresti di fare in questo periodo di forse bisogno di di pace soprattutto perché appunto sta arrivando la pasqua allora la la mia amica barbara ha appunto no sottolineato l'importanza del del sentire del cuore quello che i greci chiamavano il luogo dell'ethos e da cui etica e il luogo dell'ethos era il luogo della casa quindi la prima cosa per smettere di fare guerre e a tornare ad ascoltare con la nostra interiorità il mondo è ovvio che la nostra interiorità è un luogo che per molti versi noi non abbiamo abbiamo perso non abbiamo più gli strumenti non abbiamo più l'educazione per riappropriare appropriarci di questo spazio interiore e anche per questo che la pasqua facciamo fatica a capirla perché c'è una pasqua esoterica è una pasqua esoterica cioè una pasqua interiore è una pasqua esteriore finché l'uomo ha una visione solo esteriore pensa appunto a della a un approccio pratico alle cose mentre quando inizia ad appropriarsi dello spazio interiore ecco che allora la dimensione diventa più spirituale più psicologica più simbolica ecco che allora la pasqua racconta di quello che dovrebbe essere l'unico sacrificio che l'uomo opera su questa terra che è il sacrificio di sé il sacrificio di quella parte di se stesso quella parte che noi oggi chiamiamo ego ma ego deriva dal greco e vuol dire io quella parte in cui noi ci sentiamo definiti e limitati nello spazio nel tempo e nel corpo quella parte che quindi ci dimensiona in contrapposizione agli altri c'è un bellissimo passaggio dei veda dei testi vedici che dice nel momento in cui io l'io dice io ecco che inizia a percepire il non io come pericoloso quello è il momento in cui diciamo noi da occidentali diremmo è la caduta di gina dell'anima e il momento in cui la coscienza conflagra su se stessa e perde il senso della totalità quello che io so che il vostro il vostro canale si interessa molto di olismo no e perde il senso dell'olos perde il senso del tutto dell'uno quindi dovremmo ritrovare di ritrovare dovremmo fare anima ritrovare l'anima sì perché entrando in contatto con la nostra anima l'anima e il ponte verso l'anima universale e quindi iniziamo subito ad avere delle esperienze di diremmo empatia oggi di compartecipazione mistica ecco germano e qua ti dico per chi non sente appunto la l'anima tra virgolette ma di più sego e sicuramente mi viene da farti questa domanda per ritrovare l'anima chi è sta nell'ego cosa deve iniziare a fare perché magari uno dice come faccio a fare anima la prima cosa è iniziare a immaginarla perché se noi non immaginiamo le cose non sappiamo vederle non sappiamo frequentarle quindi limma che era anche lei un intelligenza un potere del cuore i mistici suffici lo sapevano bene corben l'ha riportato anche in occidente e quel luogo in cui immaginando le cose noi iniziamo a crearle iniziamo a crearle per noi ovviamente non che non ci siano già però finché noi non le immaginiamo quelle cose non esistono per noi e ovviamente per farlo nel nostro tempo è un po più difficile perché noi veniamo da secoli di dogmatismo materialista e riduzionista e questa dogmaticità che ci portiamo dentro ha elevato a oggettuale e quindi a oggetto la realtà e quindi anche i viventi ha reificato la natura e ha tolto il rapporto con la soggettività che è l'interiorità delle cose e quindi per entrare in contatto con l'anima bisogna avere il coraggio di provare a stare più in silenzio e più in rapporto con la propria solitudine questa cosa purtroppo non è molto usuale nei nostri nella nostra società anzi la l'idea della solitudine ci spaventa e un'idea svilente addirittura mentre la stessa etimologia ci aiuta perché ad esempio in inglese solo si dice alone isolato si dice lonely alone vuol dire tutto tiziano campovecchi ci dice molto interessante quello che state esponendo per me la vita è sacra in ogni suo aspetto manifestazione ama il tuo prossimo come te stesso tutto ciò che vive è te stesso matma gandhi e poi zaira ci dice necessario riapproparsi di una pasqua interiore entrando in contatto con la nostra anima nel silenzio quindi ci dice quello che stai dicendo tu tutte e due perfetti anzi il primo intervento dice una cosa fondamentale dice a ama il prossimo tuo come te stesso questa cosa viene spesso dimenticata perché noi appunto avendo una visione esoterica esteriore delle cose e egoica a pensiamo che amare se stessi voglia dire a essere megalomani essere narcisisti niente di più lontano da tutto questo in realtà amare se stessi vuol dire amare se stessi nella propria essenza che è un'essenza di vita di luce di spirito che appartiene a tutti gli esseri che poi penso che questo serva anche per aiutare chi c'è a fianco e se riusciamo a star bene ti faccio questa domanda dovremmo anche credo riuscire a occuparci anche della fogliolina dell'alberello quindi è un discorso legato sempre universalmente no io io alle persone che seguono dei percorsi con me faccio sempre degli esempi molto semplici e dico faccio l'esempio dell'albero un albero per poter nutrire tanta vita proteggere tanta vita assistere tanta vita più rigoglioso è più ci riesce bene quindi l'idea della nostra rigogliosità della nostra abbondanza è un'idea positiva non un'idea negativa ovviamente poi quell'abbondanza se un'abbondanza che nasce da la con dalla riconoscenza di se stessi in profondità e immediatamente svolta nella condivisione perché la parola solo anche in italiano attorno a quello che stavo dicendo ad un'assonanza che è fantastica deriva quando noi diciamo i soli no stiamo dicendo le stelle quindi diventare solo e la parola solo o sole vuol dire integro cioè la nostra integrità ci porta naturalmente a sentirci parte del tutto e questa compartecipazione con il tutto fa sì che amare se stessi è una cosa che dovrebbe essere naturale amare il prossimo e continuamente amare se stessi perché il prossimo è un'estensione di noi e quindi ad esempio il dalai lama che viene da una cultura non duale come la nostra come quella occidentale perché io non mi ci ritengo propriamente appartenente ci sono di straforo turista per caso come ti ho scritto nella nostra cultura l'idea no è sempre binaria o zero uno deriva dalla dal terzo escluso della logica aristotelica cioè a e a b e b e non c'è possibilità di confondersi invece aristotele facendo così ha escluso il terzo che è la relazione noi siamo quella relazione oggi la fisica più all'avanguardia nel novecento bor bor hanno iniziato a dire che non esistono delle particelle assistanti la particella e relazione con altre particelle tutta la realtà è solamente relazione quindi noi non esistiamo come dicevano gli antichi se non nella maia cioè nell'illusione come entità assistanti separabili decontestuate noi siamo parte integrante del tutto noi siamo parte integrante della rete di indra ognuno di noi è un nodo su questa rete e nella rete di indra che è una bellissima metafora antichissima si dice che ogni nodo è come una gemma e su ogni gemma le infinite facce della gemma riflettono le tutte le altre gemme di tutti gli altri nodi e quello che oggi noi chiameremo il tuo cognome ha chiamato l'universo olografico cioè in ogni cosa c'è il tutto e questa è un'esperienza che i mistici hanno sempre fatto quindi quando Gesù dice che gli animali erano suoi fratelli e che quello che farete al più piccolo dei miei fratelli lo farete a me era una cosa che per un mistico è una cosa evidente indiscutibile per una persona che invece ha perso il rapporto con la sua centralità e con la sua essenza con la sua verità profonda e si è identificato con le rappresentazioni con le maschere della molteplicità e questo diventa molto difficile perché lì inizia la gelosia la competizione l'agonismo e iniziano le guerre certo grazie germano guarda grazie veramente per quello che hai detto e torno dalla barbara perché chi non lo sapesse la barbara è una terapista si occupa proprio degli altri di tutti gli esseri viventi è stata un'attivista ha salvato degli animali tantissimi animali in passato ha visto cose belle cose meno belle quindi anche lei ha un vissuto e un'esperienza che insomma le ha fatto capire tante cose e quindi volevo mi rivolgo a te per così poi chiudiamo ecco con un pensiero di speranza cosa direste le persone in questo periodo perché so che c'è tanta tanta voglia di rinascere tra quello che vedo e che sento però nello stesso tempo c'è tanto timore tanta incertezza per il futuro quindi anche l'avvento della pasqua proprio collegato in questo contesto ok speranza possiamo dare visto che siamo legati in tutto questo contesto nel senso il covid e post covid e la guerra e di qua e di là insomma cosa ci dici a riguardo beh guarda perdonatemi ma mi riallaccio sempre a germano e desidero ritornare sempre al maestro il cristo lui ci ha mostrato tutto si è preso questo sacrificio su di sé enorme nessun altro essere poteva contenere questa questa sofferenza e lì c'è tutto nel senso che lì c'è la via per la redenzione cioè in realtà che cosa ha fatto lui ci ha mostrato quale via percorrere appunto per e purtroppo l'essere umano che cosa ha fatto ha fatto tutto il contrario purtroppo l'essere umano non è andato proprio al centro di questo messaggio che è stato un messaggio onnipresente cioè iniziate veramente a morire dentro voi stessi togliere tutto ciò che non serve per poi rinascere in comunione con tutti gli esseri viventi purtroppo la scelta la scelta mentale di cibarsi di esseri viventi di sfruttarli di pensare che siano differenti da noi è la via più lontana da dalla fede purtroppo è una via molto scura che invece alimenta la parte opposta e non voglio andare diciamo a parlare di cose brutte ma come diceva anche germano l'altra volta diavolo vuol dire separazione quindi se noi ci separiamo dal cuore non possiamo sentire non possiamo sapere che tutti questi esseri viventi in realtà sono tanti cristo sono tanti esseri che ci stanno mostrando attraverso l'opportunità del covid attraverso le guerre attraverso la sofferenza la paura l'essere umano è spaventato adesso non sa dove sta andando però è anche cieco ed è sordo e continua a seguire il flusso opposto perché purtroppo il vero senso della pasqua è quello di in sacrificio riunirci parlare attraverso il cuore e aprire nuove strade nuovi orizzonti fare dei cambiamenti solo il cambiamento potrà portare la pace attraverso noi stessi quindi amiamo noi stessi e amiamo il prossimo il riadiamo ciò che gesù ha mostrato sulla croce proprio per terminare di camminare nella mente nella chiusura nella paura nella separazione il covid è stata un'opportunità di crescita anche tu tutte queste vicende dovrebbero farci buttare superfluo ciò che non ci serve la carne non ci serve la sofferenza noi non serve la paura non serve tutte queste cose ritardano la pace terrena e lo diceva anche il grande maestro a ivanov dato che fa parte della fratellanza bianca finché si uccideranno milioni di animali sulla terra non regnerà la pace nel mondo scusate ma questo c'è molti pensano che sia così lontana questa pace ma la pace inizia da noi stessi da come ci poniamo in famiglia il nostro equilibrio interrompiamo queste dissociazioni mentali di pensare che il vicino non abbia bisogno il cagnolino non abbia bisogno il maialino non abbia bisogno sono tutti madri sono tutti figli e siamo tutti qua per compiere un un percorso quindi quando tu hai detto che ho salvato degli animali ci sono quelli che ne hanno salvati tanti tanti di più loro in realtà hanno salvato me come insegnamenti come diceva appunto parlavamo che con germano che un buddha in un qualsiasi cane randaggio diceva il buddha stesso quindi non è detto che un essere che non parli la nostra lingua ma ha un altro tipo di espressività non sia a pari livello se non mi fermo qua comunque l'unica cosa che vorrei fare veramente una preghiera una preghiera diversa insieme a tutti voi c'è non anche il dogma andrebbe un po un po sciolto sì so che tu sei per un sincretismo religioso so che tu abbracci assolutamente noi abbiamo una fratellanza in giro per il mondo dove ci sono abbiamo un fratello monaco buddista abbiamo in argentina non importa quando si parla di esseni di famiglia essena fratellanza cosmi con universale e seguo aspetta ridimmi il nome perché lo seguo anch'io su facebook il monaco buddista ridimmi bante sicuramente ci sta seguendo se non è già andato a letto perché ho visto un po' le cose che fa quello che posta sì come perché ci tengo a dire a chi non ti conosce di chi ci sta ascoltando che appunto tu prendi il bello che c'è non so il san francesco piuttosto che nel budd eccetera eccetera ed è sempre una visione unificata ecco del ma la via del cristo molto simile a quella del buddha e sia anche unita un certo poi adesso non andiamo a fare tutta la storia del della prima parte appunto del maestro che comunque andato in oriente ad apprendere la meditazione il segreto noi lo chiamiamo il segreto e ma purtroppo questo appunto come diceva germano è stato traviato dalla chiesa cattolica perché perché si ma perché si mangia l'agnello a pasqua è un bambino perché in realtà si mangia un essere innocente dobbiamo iniziare a comprendere a capire del perché ci ritroviamo questo essere nel piatto cioè è una cosa abbastanza dura infatti poi faremo poi approfondiremo anche questi argomenti piano piano giusto perché almeno per sempre per chi ci ascolta diciamo non non avete nulla contro gli onnivori eccetera eccetera è proprio una questione è una scelta un percorso anche ecco di quale insomma come dire riuscire a capire e entrare proprio in un percorso anche di consapevolezza se tu ti sedevi dico solo questo se tu ti sedevi a tavola con gesù non è che ti veniva voglia di mangiare carne perché perché lui talmente irradiava questa vibrazione è normale che se tu inizi a camminare è una scelta se tu dice una persona che ami che mangia carne non è che devi imporre semplicemente mostri e piano piano questa persona comprenderà perché toglie il velo tutto qua e che ci hanno raccontato che l'agnello invece va ingerito sulla carne che adesso comunque non conviene neanche più per la propria salute perché no assolutamente del pena di antibiotici inquina quindi magari anche riuscire se adesso do una parola sono quasi al termine non ci siamo accorti ma è stato tantissimo tempo quindi proprio mezzo minuto ciao sorella frega anche lei era un pasto quindi non c'è differenza tra cani e agnelli faremo anche un'intervista su anche sui cagnetti insomma della cina germano dimmi tutto minuto un minuto no 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 hai chiesto sia a me che a barba come liberarsi dalla paura e dalla pericolo delle guerre messaggio di speranza proprio detto in una frase vai germano e non più che una frase se noi continuiamo ad avere una visione divisoria se noi pensiamo di essere uomini separati dagli animali dalla natura dalle donne da i cristiani dai musulmani i non possiamo che continuare a compartecipare alla dimensione diabolica che è la dimensione divisoria noi abbiamo ancora una assoluta ignoranza che ci porta a volerci definire continuamente e proprio nella definizione che inizia l'inferno noi non siamo definiti definire deriva da un de rafforzativo e fine cioè vuol dire che ti finisco con forza perché vogliamo definirci continuamente perché vogliamo finirci con forza siamo stupidi se io vengo a casa tua e ti dico che voglio finirti con forza tu mi chiudi la porta a doppia mandata e non mi fai entrare se invece la tua mente vuole definirti con forza tu lo sei contento guarda qua germano mi viene in mente anche quando mi dicono che cosa fai nella vita oddio io sono lì che dico vabbè io faccio tante tantissime cose non saprei definirmi quindi sì effettivamente c'è sempre un etichettati una così come se tu sei predefinito in quella scatola faremo un'altra intervista su questo il contrario del definito e su questo facciamo un'altra un'altra intervista io quindi tra le concludo dicendo che dovremmo allora occuparci di più dell'anima nostra e del del nostro cuore quella è il proprio stare al centro e nell'anima io vi ringrazio come dice dicono i miei maestri namaste e niente cerchiamo di rinascere in questa pasqua io vi saluto vi ricordo a tutti gli amici che ci seguono che noi stiamo sul canale youtube facebook e instagram unit people of the world ok grazie grazie buona giornata a tutti ciao 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 la regia